A Nangrigento, nell'ambito delle iniziative promosse in occasione della festa di San Calogero, nell'ecchiostro chiaramontano della Basilica dell'Immacolata, si è svolto un incontro sul tema San Calogero dal Novecento ad oggi, tra sacro e profano, organizzato da Lello Casesa per raccontare la storia del Santo Nero e le sue antiche tradizioni. Si tratta di una iniziativa culturale dedicata al culto di San Calogero per raccontare la storia del Santo Nero Agrigentino e cercare di spiegare attraverso i dettagli, attraverso la presenza di alcuni esperti, aneddoti, storie, leggende legate alla cultura del Santo Agrigentino. E' un modo anche per avvicinarsi spiritualmente alla festa, con spirito di fede e naturalmente di devozione, recuperando le più antiche e genuine tradizioni, anche quelle legate alla festa, legate a San Calogero, come l'offerta del pane, questa sera distribuiremo del pane. E quindi anche in questo contesto ritengo che rappresenta una memoria storica. Poi voglio ringraziare chi ha consentito la realizzazione di tale iniziativa, gli sponsor, dal Varagorà alla tipografia grafiche Nunt e al panificio Passarello, che hanno reso possibile tale iniziativa e tanti ospiti che questa sera stanno apprezzando questo incontro culturale. Sento il dovere di ringraziare in maniera ufficiale il nostro Lello Casesa per questa iniziativa che ha consentito anche agli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di lavorare intensamente facendo delle ricerche molto approfondite e realizzando dei pannelli che sono stati già esposti una prima volta in occasione della valorizzazione del patrimonio che appartiene al nostro territorio ma che a volte magari non si conosce in maniera approfondita. Quindi questa ricerca ha consentito di conoscere meglio il santuario di San Calogero. Dicevo un grazie sincero perché le iniziative che porta avanti sanno coinvolgere non solo le scuole, i ragazzi ma l'intero territorio e penso che Agrigento abbia bisogno proprio di questo.